Radio Peter Pan Tecno Classico Tecno Classico Tecno Classico Tecno Classico Tecno Classico On Radio Peter Pan La mia La tua La nostra storia Tecno Classico La storia della musica Tecno Con Luca Antolini E-e-e-e-e-e-e-Marco Corvi String by Andrea Nordio On Radio Peter Pan Tecno Classico Tecno Classico Perché il classico non si batte Cos'è Tecno Classico? Il programma dedicato alla musica Tecno Anzi Ai grandi classici della musica Tecno Tutti i sabati alle 21 sentirete la mia voce C'è quella di Andrea Nordio Ma sentirete soprattutto I loro suoni Quelli di Luca Antolini E Marco Cordi Ci sposteremo nel tempo Ci sposteremo anche con i BPM E andremo a scoprire i brani Che hanno gettato le basi per la musica Tecno E quindi cominciamo Con i Rocky Esashica Kazan dal 2005 Subito dopo Alter Ego Rocker Siamo sempre sui 130 BPM Ma cominciamo con un grande classico 1996 Jimmy Tenor Take Me Baby Take Me Now On Radio Peter Pan On Radio Peter Pan On Radio Peter Pan On Radio Peter Pan Love me baby, love me baby, take me baby, take me now, take me baby, take me to the edge of explosion. Stai ascoltando Tecnoclassi, 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 su Radio Peter Pan, la storia della musica Tecno, selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassi, Tecnoclassi, Tecnoclassi. Tecnoclassico, Tecnoclassico. Perché è classico, non si batte. Tecnoclassi, Tecnoclassi, Tecnoclassi. Grazie a tutti. 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 Ecco cos'è Tecno Classic. Benvenuti a Scuola di Tecno. Con i professori Luca Antolini e Marco Cordi. Buonasera a tutti. I primi tre brani che abbiamo ascoltato si sono stabilizzati sui 130 BPM, ma tranquilli, è solo l'inizio, andremo sempre ad aumentare. E infatti adesso ascoltiamo Armand Van Elden con Little Black Spider dal 2000. Subito dopo creeremo un po' di interferenze. Dual Band GSM 1999. Ma cominciamo subito con Miss Kitty and the Hacker. 1982, DJ plays Deja Vu as we were in 82. I see your face face. I see your face fade to grey. Just wait. Just wait for new Monday. la mia la mia la mia la mia la mia la tua la tua la tua la tua la nostra storia. Storia, 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 tecnoclassic con Luca Antolini e Marco Cordi. Un Crowe Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 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 passato. a tutti. su radio. a tutti. a tutti. a tutti. Piano piano. a tutti. 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 muovi. a tutti. a tutti. noi. noi. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. 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 a tutti.